ben trovati siamo ancora qua per voi ciao amico christian ciao e oggi per voi assaggiamo questo buonissimo vino bianco è un Müller Thurgau dell'azienda Luhn Müller del 2012 12 gradi e mezzo e zona su Tirol Alto Adige e piacere di vino l'avvolamento perfetto andiamo a vedere poi a degustare questo vino ma che ci presenta e intanto direi avere un bellissimo colore giallo verdolino con una giusta consistenza andiamo già al naso che piacere i profumi di questo semi fiori gialli e ricordiamo che il Müller era un semi aromatico quindi di profumo deve avere un bel po' poi c'è della mela, la mela verde tipica anche di quelle zone davvero ottimo poi c'è un fondo di qualcosa c'è una nota dolce tipo di miele direi bravo bravissimo si invita a verlo questa nota dolce è quello che facciamo degustiamo ah che piacere secco piacevole morbido un vino che è anche leggermente sapido si fa venire voglia di berlo di berne ancora fresco lo mettiamo fresco 8 10 gradi si lo servirei 8 10 gradi che arrivi complicato esatto tipicamente estivi e vale mazzolla cosa ci fa bene amico vale mazzolla direi che ci consiglia un piatto golosissimo dei passatelli diciamo al pesce asciutti quindi con gamberi calamaretti e un po' di spinaci quindi amici di Medivino CIN